Benvenuti nel nostro canale, vi preghiamo di iscrivervi e lasciare un like al video. Guardatelo tutto perché è ricco di contenuti fondamentali, per noi è importante. Nel labirinto della televisione italiana, Pier Silvio Berlusconi si stagliava come un moderno minotauro. Aveva da poco rilasciato un'intervista che risuonava come un tuono nel panorama mediatico, un tuono che annunciava il termine del viaggio per quattro celebri volti di Mediaset, due uomini e due donne, tutti conduttori dallo sguardo familiare, volti noti sin dagli anni 90. La battaglia mediatica che stava combattendo con Barbara D'Urso era un vero e proprio assedio, un duello all'ultimo grido. Secondo alcune voci milanesi, si era svolto un incontro tra i due, un confronto che avrebbe dovuto essere pacificatore, ma che era esploso in un tumulto di rabbia e frustrazione. Si dice che uno dei due avesse iniziato a inveire contro l'altro, creando un'atmosfera tanto pesante che le autorità avevano dovuto intervenire per evitare che la situazione degenerasse. Ma la notizia che vibrava con più forza nel calderone mediatico era la posizione precaria di Maria De Filippi. Maria, vedendo il licenziamento della sua storica collega Barbara e di Mara Venier, stava meditando di abbandonare Mediaset. Ma i programmi di Maria erano la spina dorsale della rete, le sue creazioni erano ghillie show che attiravano le folle. Di fronte a questa prospettiva, Pier Silvio non aveva intenzione di lasciarla andare. Si vociferava di un'offerta da supermanager per trattenerla, un tentativo disperato di non perdere uno degli ingranaggi chiave di Mediaset. Ricordo simili voci erano circolate in passato, quando Maria aveva sofferto la scomparsa di Maurizio Costanzo. In quel periodo oscuro, la conduttrice aveva considerato di prendersi una pausa o di abbandonare del tutto la conduzione dei suoi programmi. Tutto questo turbinio di cambiamenti aveva avuto origine con la morte del padre di Pier Silvio. Con la Mediaset ereditata, Pier Silvio aveva preso in mano le redini e aveva iniziato a tracciare un nuovo corso, tagliando figure storiche come Barbara D'Urso e Belen e mettendo in dubbio persino il posto di Maria De Filippi. La battaglia di Pier Silvio non si fermava qui. Massimo Giletti, Paolo Bonolis, Mara Venier e Ilari Blasi erano tutti sul punto di essere allontanati da Mediaset. Anche Ilari temeva di finire come Barbara D'Urso. La conduzione della talpa sembrava essere la prossima sfida per la compagna di Pier Silvio, Silvia Toffanin, mentre Enrico Papi sembrava destinato a riprendere le redini della pupa e il secchione. Era chiaro che Pier Silvio aveva un progetto per Mediaset. Voleva riportare la televisione italiana a un livello culturale medio, eliminando quei conduttori e conduttrici associati a programmi considerati spazzatura. A tal punto che anche Paolo Bonolis era in pericolo, in seguito a una controversia mediatica nata da una battuta infelice che aveva suscitato molta indignazione. Cosa riserva il futuro per Mediaset sotto la guida di Pier Silvio? Le carte sono ancora da scoprire, ma una cosa è certa. I cambiamenti sono in arrivo e noi vi terremo aggiornati con le ultime notizie. Non dimenticate di iscrivervi e lasciare un like al video. Non vi costerà nulla, ma per noi è importante. Ve ne siamo grati. Alla prossima.